Se si desidera visualizzare un registro delle azioni degli utenti in ePassan Manager, è sufficiente fare clic sul pulsante Strumenti. Poi basta fare clic sull'opzione Registro in alto. A questo punto è possibile scegliere di filtrare per data, utente, tipi di azioni e parole chiave. Infine, basta fare clic sul pulsante del filtro per visualizzare il registro delle azioni. Grazie a tutti.